La stagione estiva, pare finalmente iniziata, i parcheggi vengono presi d'assalto. Nonostante le lunghe e comode piste ciclabili, sono tante le autovetture che girano nelle ore più calde alla ricerca di un posto e tra Pescare e Montesilvano torna la diversa gestione del si paga e non si paga. A dirle in maniera semplice, a Montesilvano non si paga il parcheggio da nessuna parte, ancora meno sul lungomare. Sono circa 700 i posti che saranno disponibili in meno di 10 giorni se si considerano anche quelli del retro teatro del mare e quelli ricavati dalle aree adiacenti della Stella Maris e lungo la strada Parco. Abbiamo richiesto alla tua le autorizzazioni necessarie e siamo in attesa di avere un risponso definitivo. Ci auguriamo che vada tutto nel migliore dei modi come è successo negli anni addietro. Certo è che quest'anno c'è il problema, che un tratto sarà chiuso perché Traviati e Giaviar lo stanno effettuando dei lavori quindi ci auguriamo che nel tratti rimanenti, quindi Traviati e Via Torrente Piomba, ci venga consentita la possibilità di utilizzare l'area come parcheggio. Ed è proprio l'annuncio del vice sindaco Paolo Cilli sul quotidiano Il Centro che ha creato qualche imbarazzo con i vicini di casa. Ora si attende la clemenza della tua che dovrà fare i conti con i cantieri aperti per la filovia e le esigenze di turisti residenti. Ma in realtà potrebbero negarla ad entrambi, anche a Montesilvano. Speriamo che questo non avvenga sia per noi che per Pescara. Tutto questo fa pensare che, grande o nuova, la futura municipalità che dovrebbe nascere dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore sarà forse un po' complicata. Sulla gestione dei parcheggi sono scelte delle amministrazioni. Naturalmente noi ci rendiamo conto che probabilmente Pescara ha delle esigenze diverse e quindi anche un mondo diverso, anche se stiamo in una città metropolitana, ma loro hanno ormai da tanti anni istituito i parcheggi a pagamento a differenza di Montesilvano che è riuscito negli anni a preservare la sosta gratuita su tutta la città. Una scelta coraggiosa? Una scelta coraggiosa. Diciamo che il bilancio ci ha consentito in questi anni di poter andare avanti così. Speriamo che si possa andare avanti ancora per diversi anni e poi vedremo cosa succederà con l'istituzione della Grande Pescara.